Sono veramente orgoglioso della mia gente, sono orgoglioso dei miei commercianti, sono orgoglioso delle mie partite IVA che hanno tenuto in maniera straordinaria, nonostante le fatiche, le difficoltà sotto un tendone, in piedi l'economia di questa terra. È stato questo il messaggio che il sindaco Gianluca Pasqui di Camerino ha voluto rivolgere alla cittadinanza nella piccola cerimonia che ha aperto ufficialmente i lavori per la realizzazione del nuovo centro commerciale, una struttura che ospiterà una settantina di attività commerciali e partite IVA, oggi nel vicino City Park sotto i tendoni e che prima del sisma del 2016 si trovavano nel centro storico. Siamo tanti, tutti quelli che hanno creduto insieme a me che sono stati al caldo, al freddo, sotto un tendone per questo. Ha tanto coraggio, con tanta voglia di farcela, di rimanere, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, non abbiamo mai mollato. 70 i giorni di tempo per la realizzazione, un importo complessivo di più di 7 milioni di euro finanziati dalla protezione civile, dopo che all'inizio si era parlato di 2 milioni e 6 e attività in container. Non ho mai creduto in quella possibilità perché Camerino non avrebbe sicuramente guardato al futuro se non ci fosse stata quest'opera. Abbiamo dato l'incarico al professore Losco e quindi direttore della scuola di architettura della nostra università, per cui ringrazio fortemente il rettore. Un pensiero di gratitudine e stimolo anche alle aziende tutte maceratesi che lavoreranno all'opera, la Crucianelli Restedile di Tolentino, Grime e Erdi Paci di Coridonia, SCS di Petriolo e Old Service di Monte San Giusto. Di chi comunque vive questa terra, di chi comunque sa le disgrazie di questa terra e di chi quindi lavorerà con il cuore e non per il rispetto del contratto. Infine Pasqui rimarca l'importanza dell'opera per la realizzazione anche di una grande piazza. Sono stati due anni veramente tremendi proprio da un punto di vista sociale, da un punto di vista di unione tra le persone. Non sapevamo più, salvo andare a guardare documenti ufficiali, dove era la nostra gente. Il sindaco ovviamente lo sapeva, ma i cittadini dove avevano i loro concittadini, i loro amici? No, ecco questa opera è un'opera importantissima, un'opera che attraverso i commercianti, attraverso le partite IVA ridarà appunto una socialità.